Signori, The Final Cut, rirecensione, gli avevo dato 8 più, diciamo che anche un 8.2, è bello come film, Robin Williams naturalmente è sempre sopra le righe, è un film che fa pensare, è cupo, come ho già detto, è molto scuro, è molto triste, però è una fantascienza da cui non siamo tanto lontani, magari tra 50-100 anni ci arriveremo a fare cose del genere, fa pensare un po' tipo Gattaca, e basta così, al momento è su Prime in chiaro, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciate un like, ciao ciao!